Fiori bianchi e rosa per ricordare Andrea. Negli ultimi giorni sono stati in tanti a depositare omaggi di vario tipo da un peluscia a un cuore rosso a delle rose bianche davanti a rudere lungo la Monte Carottese a pochi chilometri da Iesi dove sabato è stato ritrovato il corpo che con ogni probabilità come sono convinti gli inquirenti appartiene ad Andrea Rabciuk, la 27enne di cui non si aveva traccia dal 12 marzo 2022 quando abbandonò la festa passata con amici e con il fidanzato Simone Gresti unico indagato al momento con l'accusa di omicidio volontario per sparire nella campagna della Vallesina. Continuano senza sosta le indagini degli inquirenti dopo l'autopsia che non avrebbe evidenziato tracce di violenza sui resti ritrovati ma che avrà bisogno del supporto dell'esame del DNA per dare definitivamente forse un nome al corpo reso ormai uno scheletro dal tempo. La polizia scientifica sta effettuando ulteriori esami sugli oggetti ritrovati nel casolare a fianco al corpo. I brandelli di quella che in un primo momento sembrava essere una corda e che invece sarebbero brandelli di una sciarpa ritrovamento che aveva fatto pensare anche all'ipotesi di un gesto volontario un'ipotesi che gli inquirenti per il momento tenderebbero ad escludere e anche i ricordi fatti da amici e conoscenti della ragazza che da Iesi dove lavorava in un pub e vivevano parlano di una persona solare e piena di vita fanno pensare a un'ipotesi diversa dal suicidio e se il corpo trovato sulla scalinata che porta un sottotetto inagibile sia stato portato lì da qualcuno successivamente resta il vero mistero di questa brutta storia. La testimonianza di un vicino in una strada poco frequentata e dove si ferma pochissima gente che nei giorni della sparizione della ragazza in quelli successivi non ha notato nulla di strano. Normalmente qui vengono auto che si fermano anche in periodi... No, sono le proprietà, rivedo. Due ragazzi, due bravi ragazzi, ci vengono sempre nel pomeriggio oppure alla mattina ma di notte mi sembra di no. E in quella data del 12? No, non ho visto niente, assolutamente niente. Se no avrei avvisato anche. Quindi lei tende ad escludere che ci possa essere stata una presenza di qualche auto in quei giorni oppure che una ragazza possa essere venuta a piedi da sola? No, non... A parte che non ci sto sempre che esco però non ho visto niente di particolare lì, ecco. Niente... Non è che sto sempre qui, ecco. Quando mi si fermano le macchine avanti a casa e mi affaccio, ma lì non sento. Anche nella cagnetta che mi abbaglia sempre non... Se stanno lì non si sente, ecco. E né nei giorni successivi? No, no, niente. A parte che non sto sempre qui, magari sto di dietro. Qua seppure c'è venuto qualcuno ma non c'ero, ecco. E qui comunque qualcuno viene normalmente con le macchine, che lei sappia? I proprietari li vedo, sì, sì. Vengono al pomeriggio, alla mattina, sì, fanno l'erba, custodiscono un po' intorno a casa, ecco, di questa casetta lì. Grazie.